può ottenersi come somma di due numeri interi, x e y diversi tra loro, tali che n è uguale a xy uguale a yx. Qual è il valore di n? Il numero di lettere che compone il nome italiano di un numero intero n, cioè tipo 9, 4, può ottenersi come somma di due numeri interi, x e y diversi tra loro, tali che n è uguale a x per y uguale a y per x.